Andiamo subito a redare, no? Tocca a boca! Ciao a tutti piccoli cloetti e benvenuti in questo nuovo video di Tocca a boca! Oggi abbiamo comprato qui la casa arcobaleno! Oh, è già uscita da qualche mese, però volevo comprarla per aggiungerla alla mia collezione di case, dato non solo due. Proviamo a accendere questa tv perché ancora non l'abbiamo accesa. Wow, perché ci sono io in questa tv? Sentiamo. Quindi ragazzi iscrivetevi al mio canale e mettete un like e grazie al supporto per il mio canale. Ha detto che saremo felici per sempre se voi iscrivetevi al mio canale. Quindi iscrivetevi subito e mi raccomando prima di finire questo video. Quindi ora andiamo subito a redare. Come vedete qua fuori c'è un piccolo balcone. Con qua un ombrellone, sapicco baleno. E qua un tavolino turchese, molto carino. Poi qua un albero con le foglie tutte rosa e dei fiorellini molto pucciosini. Tronco con... Ci sono dei tratticci fucse. Poi qua abbiamo la cucina. Oh, è molto bella. Anche se dobbiamo ancora redarla. Quindi non è ancora troppo carina. Ma vedrete io come la redo. Bene, bene, bene. Si inizia a decorare. Come vedete se noi clicchiamo qui, come sempre... Wow! Ma è troppo... Ha letto che penzola! Veramente? No, è troppo figa sta cosa. Troppo figo! È una figata, è una figata. Dico che è una figata. Troppo bello, no? Poi qua abbiamo gli accessori della casa moderna. E i tappeti. Un tappeto arcobaleno e un tappeto fucsia di cuore. No, è troppo carino. Qua altri armadietti. Ovviamente uno rosa, un arcobaleno. Con gli attaccapagni arcobaleno. I quadri. Ci sono tantissime foto ovviamente con gli unicorni. Troppo bello. Bellissimo! Abbiamo anche qui la scala. Dei penzoli così. Sempre fucse bianchi. Troppo bello. Ok, possiamo avanti. Comodini senza... No, non sono solo dei nuovi. Peccato. Wow! Ma la doccia è troppo bella. C'è la lettiera per i cani e gatti fucsia e un vecchio fucsia. Ma è proprio tutto, tutto fucsia. Dovevano lasciare un po' più di bianco. Ma questo non importa perché è così troppo bello, no? Wow, questo lavandino è super incredibile. Cioè il lavandino è fatto a cuore, bellissimo. Specchi uno rosa e tutti gli altri uguali. E vabbè, non è cambiato niente. Solo questo detersivo. Ci sono i trucchi! No vabbè, devo subito metterli. Ma dopo... Wow, il frigo è bellissimo! Ed è una figata. Un microonde! Questo ci serviva finalmente. Un forno che abbiamo già in tutte le altre cose. E guardate qui, questo fucsia che c'è già. Wow, che bello. Qua abbiamo ancora il tavolino con l'ombrellone. Aiuto, non lo voglio. Poi qua un tavolo a forma di cuore turchese. Ma era meglio rosa. Vabbè, non importa. Qua c'è un tavolino trasparente rosa. Un tavolino bianco. Questo qua, tavolino rosa e bianco. Bene. Ah, le sedie! Wow! Questo qui, questo qui, questo qui, questo qui. Ce ne sono di nuovo. Due turchese e due rosa. Bellissimo. Vediamo qui. C'è, allora, c'è il coso per i toast. Un bicchiere con la cannuccia. Ma questo è incredibile. Cioè, fammi capire. Quindi mette dentro un liquido arcobaleno che è buonissimo. E io non l'ho mai assaggiato, peccato. Sto super invidiando questa cosa perché... C'è, allora, c'è la torta arcobaleno. C'è il gelato, soprattutto. Tutto cos'è questo? Chissipop. Bop. Delle patatine. Ok, passiamo avanti. Salotto di... Questo qua che pensola? Questo qua ha una specie di divano per i cagnolini, per i gatti. Ma io metterò dentro anche gli avatar. E qua un poof di ciambella arcobaleno. Troppo bello. Lampadari, ovviamente, anche questi sono cambiati. Questo qua l'ho già visto già. Qui faranno TikTok, ovviamente. No, vabbè, troppo bello. Ci sono troppi accessori nuovi qua. Vabbè, non li faccio vedere tutti. Sino a spreco tempo. Vediamo qua. Wow, uno zaino, delle scatole, bellissimo. Una scatola arcobaleno. Ma ci sono anche i palloncini. Allora, c'è una rana che tiene le piante. Sto lama rosa che tiene le piante. Troppo bello. Palloncini. Ah, che bello. Ci sono tutti gli accessori per le feste. Che bello. Giocattoli. Ah, evidenziatori. Finalmente ci sono. Astucci, penne, matita con la zampa di gomma. E come si chiamava? Vabbè, non importa. Un fumetto. Wow, delle caramelle. E poi anche questo cuscinetto. Benissimo. La radio. Oh, computer tv, bellissimo. Abbiamo anche qua dei controller per giocare. Ovviamente ai videogiochi. E poi qui una specie di Nintendo Switch a nuvola. E qua una fotocamera. Stavo per dire il telecamera. Vabbè. E qua c'è una radio viola, ovviamente. Bene. Wow, che bello. Oh, che bello. Mamma mia, questo qualche balleno. Vabbè, i colori sono sempre gli stessi. Cominciamo ad arredare. Innanzitutto togliamo tutto quello che non ci serve. E poi arrediamo tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, adesso vediamo se come la notte vanno le luci, perché io sono troppo emozionata. Andiamo? Intanto io già accendo qualche luce, faccio così, vado anche qui. Wow, è troppo bello! Wow, è troppo... Vabbè, qua c'è una piccola luce. Vi riferisco una cosa. Sì, questa. Bene. Qua c'è la luce accesa, Gian. E voilà! Voilà! No, non sono luce. Che peccato! Vabbè, sono decorazioni, ma sono comunque molto belle. Bellissimo. C'è troppo bello! Qua manca qualcosa, sì, sì. Manca qualcosa. Mettiamo anche qua qualche luce. Sì, sì, mettiamo anche qua questa luce. Ecco fatto. Si accende, no? Si fa festa tutta la notte, ma ovviamente io sto invidiando un sacco questa cosa, perché voglio anch'io delle luci così. Quando facciamo festa, si accendono e festeggiamo tutta la notte fino alle 6 di mattina, no? È troppo bello. Ora, chiamiamo i nostri avatar e vediamo la loro reazione. Wow, questa nuova casa è molto bella! Eh già, allora noi ci vestiremo ovviamente d'arcobaleno. Sì, certo, ci vestiremo sicuramente d'arcobaleno. Cioè, questa casa è troppo bella! Guardate la doccia, quant'è fashion! Wow, 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 wow! Ovviamente quando torneremo nella nostra casa vacanze ci vestiremo così come eravamo, ma possiamo sempre mettere i nostri vestiti nella casa d'arcobaleno, giusto? Sì, sì, certo. I nostri genitori non ci accuseranno che noi siamo andati in un'altra casa e noi ce la siamo permessa comprandocela. Sì, non gli diremo niente. Comunque questo puff è molto carino. Oh, è molto comodo! Wow, questi puff sono molto carini! torte al copaleno e ne voglio subito una! Aspetta, non si mangia! Dobbiamo invitare tutti! È vero, ma io sono troppo innamorata di questa casa, voglio anch'io già una torta! Non si mangia la torta! Ma è perché la mangio io! Dopo, ovviamente. Eppure io, e anch'io, noi ci siamo già offerte, voi no, quindi la torta è nostra. Vabbè, non importa, la torta è di tutti. Sì, ma sta casa io la vorrei per tutto il giorno, cioè nel senso, per sempre non voglio più tornare nella nostra casa vacanze. Comunque la nostra casa vacanze non è niente male, è molto bella. Eh già, ma anche questa casa è molto carina! Wow, i videogiochi! C'è un video di io sono Chloe, che bello! Saremo felici per tutta la vita! Wow, che bello, sì sì, mi iscrivo subito al suo canale, ovviamente dopo però. Voglio guardare prima questo video, sì sì, lo guardo dopo. Ok, ma adesso basta parlare, chiamiamo tutti e festeggiamo sta festa! Quindi piccoli Chloe, spero che la casa come ho redato io vi sia piaciuta e spero che anche voi volete comprare questa casa meravigliosa. Ovviamente potete fare quello che volete, potete arredarla come volete, potete disegnare come volete, perché è super bella! Bella! Ho detto male. Bene, quindi ora ci saluteremo, giusto? Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e mettete un pollicione! E come ha detto la Chloe nella tv qui, ecco qua, iscrivetevi al mio canale e sarete per sempre felici! Oh questo è quello che ha detto, sì è quello che ha detto! E quindi cliccate anche le campanellina! E noi ci vediamo alla prossima con una nuovissima avventura si tocca a bocca o a box, sì non lo so! Ci vedremo la prossima volta con una nuovissima avventura! Ciao! Mua!